Torna a salire la curva della pandemia in Puglia, dove secondo i dati forniti dal bollettino della regione, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.895 nuovi casi a fronte di 12.472 tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 15,19%. È sempre Bari la provincia più colpita, con 730 contagi, seguita da Foggia con 347, Taranto con 271, Lecce 209, Bat con 203 nuove positività e infine Brindisi con 127. A questi vanno aggiunti 7 casi di provincia non nota e un residente fuori regione, che portano il totale dei contagi pugliesi dall'inizio della pandemia, oltre la soglia di 225.000. Ancora grave il bilancio dei decessi, con altri 35 morti in un solo giorno, 18 nel Barese, 7 nel Foggiano, 5 in provincia di Taranto, 4 in quella di Lecce ed 1 nella terra di Brindisi. La lista delle vittime del virus si allunga sino a toccare quota 5.568. I contagi odierni fanno salire il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono in tutto 49.422, mentre si assiste ad un ulteriore lieve calo dei ricoveri. I pazienti Covid in ospedale sono complessivamente 2.079, una cinquantina meno di ieri, sempre 260 invece quelli in terapia intensiva. A confortare infine anche oggi ci sono i dati relativi ai negativizzati, che salgono a 170.041, con quasi 1.800 guariti in più rispetto ad un giorno fa.